Signor Moreno, in casa, qui in Vianora, un alloggio di edilizia popolare, segregato in casa perché invalido, sopra una carrozzella, impossibilitato ad uscire. Voi chiedete un nuovo appartamento in un palazzo con un ascensore? Certo, stiamo combattendo per ottenerlo, ma dopo tanti anni di lotte e così, nessuno si fa sentire, nessuno si fa vedere. Purtroppo è una situazione critica, non mi posso neanche muovere qui in casa perché è tutto stretto, il bagno è piccolo, ma è un casino. Per me e per tutti i miei familiari, mia moglie, mio figlio e anche mia figlia, quando viene, vivono anche loro la mia disabilità, perché mi devono accudire, mi devono praticamente vestire, mia moglie mi deve vestire, mi deve fare la doccia. È una situazione proprio deprimente, anche per me, che è un essere umano in questa situazione. Ho bisogno di vivere anche io un po', nel senso di uscire, di vedere persone. Non si può vivere in questo modo, segregati in casa a 57 anni, sono 10 anni che sto male, però 5 anni proprio che non esco, che sto a casa. Una cosa, non so come definirla, però è impossibile andare avanti in questo modo. È una situazione tragica, abbiamo circa 25 casi in provincia di Pescara, appartamenti dell'Ater, quindi di proprietà della regione Abruzzo, con persone segregate in casa, come il signor Moreno. È una situazione veramente allucinante, l'abbiamo denunciata più volte in regione Abruzzo. Laddove si possono installare gli ascensori, si devono installare, basterebbe qualche bricio, la 150 mila euro di stanziamento da parte della regione Abruzzo. In questo caso va attivata la mobilità, purtroppo lui ha ricevuto solo promesse. Ecco, io quello che dico, gli amministratori pubblici non devono pensare solamente a realizzare grandi opere, grandi ponti, e mi riferisco anche al Presidente di regione, più dimenticarsi di questa gente. Le condizioni sono veramente disumane, quindi semplicemente accelerare l'iter per la mobilità quanto prima, per cercare di riuscire a soddisfare questa elementare richiesta da parte della famiglia. Quindi quanto prima, adesso vedremo come agire, se attraverso un'interrogazione o semplicemente andare all'ufficio patrimonio a chiedere quanto tempo c'è per avere una casa nuova o comunque un cambio di alloggio.